pomodoro, mozzarella, pasta asciutta e maccheroni, melezana e peberoni, il mio sciocco a minciocco i moltini, cotolette, costolette di maiale, i crostini di caviale, solo chi mi chiederà chiamo bella, chiamo bella, un ritorno per favore, c'è ma c'è ma il ruolo e nessuno mi chiederà c'è brutta, minchia che cessa salve ragazzi qui del... salve ragazzi qui del tentato sono con Grigus e ignoto nel frattempo Grigus sta leggendo là però ho un'idea geniale per farmi perdonare, così potrò ritornare nel nostro amato regno naturalmente con il vostro aiuto, amici miei, bau delta bau, non è un'idea sciocca, anzi è a prova di sciocchi, ecco acclamator cuochi, sono entrato a far parte dei biscotti biscotti, 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 che tristezza bau, ah ok non c'è, però lo sa tutto se avrò trovato l'illuminante proverò il mio valore emergendo le mie mille sfaccettature, sì, mille strati le cipolle hanno i strati, gli strati ciuchino ok il famoso percorso snack è il modo migliore per mettermi la prova, è una spedizione per veri biscotti questa sfida sarà un gioco da ragazzi, e soprattutto le vostre eccezionali abbriteremo di ritorno ad avvenire le cipolle per l'ora del tè iniziamo il nostro viaggio, il vostro viaggio, il nostro viaggio, a te non c'entri un cazzo, le stai qui alle cazzine cazzine, aperte virgule cazzine ok prepariamoci un baccato vuoi come è bello, abbiamo i cappellini guarda che bello che è il mio è incazzato nero è il mio tuo coso handicappato se vuoi diambula sto registrando, io non voglio avere problemi guarda, guarda, aspetta no, 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 mettiti bene al centro guarda maaa questo è perfetto ok, andiamo ciao mamma come si fa? si entra no, che ho fatto? ok ah, si, madonna, i tasti giusto questo sarà un po' più divertente più facile per te ignoto perché non ci sarò io a comando della spedizione punitiva allora, teoricamente allora, teoricamente è molto più semplice questo rispetto a quello che aveva proposto Grifus folle, psicopatico vedi, già 200, 440 già è qualcosa di positivo si, a 700 meno di 700 fa schifo ok guarda che bello ti vengono in mente i ricordi del campeggio allora, spieghiamo come funziona ecco qua cos'è lo smore? cos'è questa cosa? non lo so è un po' difficile come cosa bisogna tagliare anche la legna praticamente a delta è il boscaiolo è proprio di spiegare come funziona la roba perché io non l'ho mai fatta allora, i marshmallows dovete passarmi per tagliarla io ve li devo lanciare le oste vabbè, però no, no ragazzi, no se no io non riesco a giocare io ve li devo passare per tagliare che li faccio più piccoli e io in cambio vengo lo prendo eh no, perché io devo lanciarvi i tronchi ragazzi i tronchi vi servono e Grifus se ti ricorda dovete lui mi ricordo tutto io non mi ricordo niente no, tu non mi ricordo devi lanciarvi un tronco sì vedi che ne ho già uno allora serve un tronco spiegami vedi i tronchi i crackers così come mettevi i panini su un burger allora i tronchi voi dovete usare voi i mani dovete io ve li lascio qua il primo è pronto la consegna è ben ammino di donne no, no è una roba che non c'è scadenza di tempo ci dobbiamo essercitare un attimo ragazzi allora infatti allora guardate qua il trucco è semplice voi dovete mettere le cose a fuoco e poi quando sono pronti i marshmallow come adesso in quel momento vedi sono pronti dovete metterli nei piatti che adesso ormai l'avete fatto e i cracker i cracker ecco bravo vedi come hai fatto muovere la cioccolata bravo la cioccolata la devo tagliare devo fare tutto io qui esatto bravo ha detto di tagliare con l'accetta hai capito guarda davanti madonna c'è uno sotto la cioccolata e prendi ma il sbaglio dove era era tipo vediamo se la cioccolata sì la cioccolata va fredda perfetto meno male ma era nel nella 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 vecchia guardia di Napoleone o nella legione romana che c'era un legionario no non li mettere non li mettere quando non non si cucina io ve li preparo soltanto così non c'è uno di un legionario romano della vecchia guardia che andava in giro con no con la che mano no è roba da barbari quella bellissima questa cosa è finita sì sì no perché i francesi i tuoi amati vicini avevano tipo la tradizione di avere uno della vecchia guardia che andava in giro con l'ascio se non lo sapevo però ok ok ho anche tutta la legna a destra esatto poi i piatti li dovete lavare un altro fanno un altro col cioccolato delta così ne abbiamo due normali due col cioccolato e qua c'è proprio un romantico castrum di notte e il castrum di notte è molto romantico in realtà molto bello allora volete iniziare a consegnare non lo attaccano non lo sgozzano tutti quelli che ci sono dentro oh vabbè vai sei tu che devi servire no dico inizio posso partire vai 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 allora serve il normale e quella cioccolato e poi il normale si che c'è già mi serve un altro normale però ok però c'è uno normale che prendi questo ho già acceso il fuoco io l'avevo il piatto intanto ok i piatti l'avete presi perfetto intanto io vi preparo la roba qui da mettere mi servono piatti ecco ok griffus passano no c'era no 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 è perfetto ma lo seguo con cioccolata che intanto per l'inizio arriva a mettere ah già è pronto no aspetta manca 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 il grissi metti ecco ecco cioccolato cioccolato piatti si griffus occupati io lavo i piatti tu occupati i clienti sono arminio tipo arminio quindi noi siamo a parte di autoborgo e stiamo cucinando per per i cosi non mi dire queste brutte cose ti prego che non gli amici è un cuore gruschi gruschi attenzione qua c'è il piatto in germania mettetevi un altro piatto dove stanno solo i marshmallow però ok arriva ah perfetto ok metti questo ma che il mash il coso del cracker perfetto perfetto mamma aspetta mettevo la legna no no la legna sta qui sotto ne ho due no no ma dicevo la cioccolata e mi serve il coso del marshmallow perfetto piatti piatti faccio io faccio i piatti perfetto mi serve il cracker perfetto ho sbagliato ha dato bella vorrei dire che sembra più tranquillo degli altri ma non lo dico no non lo dico bravo non gufare anche perchè siamo nella foresta ok questo lo lascio qua come cioccolata ora servono due con il suo marshmallow lo manco lo stanno andando uno è qua ok no non li spostate non li spostate ragazzi uno e l'altro manca è quasi pronto oh caos eh no dovete prenderla eccolo qua si si no me l'ho messa l'ho messa ne ho un po' eh però me la passo e poi quello con la cioccolata manca il marshmallow però eh giusto eh però non sono nei più tagliati ecco qui basta 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 se no iniziate a prenderli io ve li passo così posso prendere un po' di legna ragazzi ve la devo tagliare la legna e ve la devo tagliare la legna l'ingrediente il mio ingrediente preferito eh sì eh ragazzi ragazzi manca solo marshmallow mettete un marshmallow caldo lì in quel piatto per la cioccolata ragazzi ve lo sto dicendo mi serve un marshmallow oh perfetto se mi fai eh grazie questo normale perfetto prendete adesso questi legna e delta fai un marshmallow eh la cioccolata sì un attimo mettelo perfetto grande e mo ve li passo ragazzi cioccolata andiamo cerchiamo a fare una cioccolata sì ce la facciamo prendete 10 punti secondi avete 10 punti secondi per farlo con la cioccolata eh mettelo manca solo le marshmallow ma è po' che sta cucinando trappolenta trappolenta non ce la facciamo però c'è 1.4 1.4 non rompete ma io volevo 4 stelle non romper va bene così sì ah mamma mia è accettabile comunque payday è simpatico però veramente grius devi avere molto una collab borsone perché ammazzare persone o non controllare i gli ostaggi chiamano la polizia infatti di guardare le telecamere dove sono io sono estremamente con la polizia tipo quando ammazzi 1 mi pare devi rispondere subito alla radio per non farne sospettire poi chiuderlo tipo nel sacco cadaveri e buttarlo nel cassonetto sì se non lo vedono e chiamano la polizia esatto ma poi delta è a capo del furgone delta è il furgone è ovvio io sono il furgone e vado pure a scatto è di tutto burgo guarda senti è come il furgo questo giro qua che ci vanno andando avanti un po' e poi c'è l'imboscata questo è quello uguale a prima la roba sì è sempre tutto uguale cambia poche cose cambieranno gli ingredienti dei crackers sì probabilmente ecco qua almeno non so da solo quindi qua possiamo aiutarci vedete qua ci sta meglio dividersi comunque qua ci può dividersi chi taglia chi prepara io impiatto io impiatto ah rifai prima di partire allora tu impiatto vedo se non parte il tempo si è preso il tempo piatto allora Grievous ha detto che è impiatta quindi io e Gnoto tagliamo ok però dobbiamo mettere la roba qui quindi io penso al legno qui so tutte le cose in legno e poi ecco ci mettiamo già i marshmallow in cottura tanto senza la legna è lento esatto poi buttiamo la legna tutta qua il marshmallow perfetto allora io sto faccio così ecco bravo faccio così tu pensi a ecco io metti crecarne i piatti intanto bravo bravo servono per forza bravo ma pensa Grievous il restante no ecco no ma no ma cosa ci faccio con questa banana poi delta più banana ma non si può tagliare a banana ma non si può tagliare a banana ma non si può tagliare a banana prova a tagliare la banana si guardano con quale foglia e la banana ah si può mettere non lo sapevo ah i piatti dove stanno lavati perfetto e si taglia eh un attimino non sono un porcione su una sedia a rotelle la banana delta piglia la banana si si però prendi Grievous hai detto che impiatti controlla e così farò e no devi controllare il marshmallow che adesso si deve mettere un po' di carne si deve mettere un po' di marshmallow al fuoco no non parte perché devi mettere legna se no no vedi no vabbè sennò va lento è più lento eh no perché si spegne proprio no bisogna tagliare altri marshmallow mi sa oh no cacchio si cacchio cosa che ho pure di servito no e ho sbagliato io non c'è ringrazio il sommo guantatore diragliate tagliate altra legna maledetti orchidi eh però non me l'ha buttato ora eh ragazzi ci sta un marshmallow in sospeso lì che qualcosa di orchi soprattutto che conoscevo da ponderano noccio biondo mettelo è un altro piatto che si bravo perfetto c'è un marshmallow qua pronto metti un cracker e andiamo una alla volta ragazzi rubato no avete ho messo il coso sul piatto al volo tipo no prendilo e vai è sì un procione di sabine pure quindi beh sì beh sì beh l'avante dice no io taglio la legna però qualcuno deve pensare di tagliare il marshmallow e la banana e la banana la banana e tutto della mo quelli quelli metti dopo dobbiamo mettere nel piatto sì solo questo puoi mettere nel piatto per guadagnare sempre cioccolata ragazzi cioccolata cioccolata tagliata qualcuno che pensa a legna taglia lanciala direttamente bravo brucia prendilo c'è il codice cioccolata che la voglio tagliare manca il codice la banana vai vai consegna subito bella banana no che ho fatto orrore lascialo lì no ma sei ma sei un ma io ho messo la banana che non c'era la banana e cioccolata ho messo banana e cioccolata ragazza non c'entra un cacchio mi dispiace per questo lo cance il marshmallow sta andando a fuoco metterlo qui è pronto è pronto vabbè faccio io cavolo è proprio il coso e sale dopo la volete deve altro ancora cioccolata questi non li spostate questi però ecco qui lasciateli qua e prendeteli con i piatti direttamente e questo si mette qui porta le consegna perfetto cazzo ce ne serve un altro eh sì me lo prendo con questo marshmallow però pulito tutta colpa di questo maledetto marshmallow eh ci ha fregato l'antico che la tempista venga rifatta no abbiamo fatto due stelle va benissimo no ma cos'è team due stelle sai gli hotel due stelle che sono bassi non è vero mai bassi hotel mezzo stella va benissimo anzi potevamo fare forse un po' di più però possiamo fare forse un po' di meno ma il cliente non serve il bagno funzionante gli basta solo dell'acqua cosa c'è un metro può funzionare lo stesso ah meno male che non sta guidando Grievous se no rifacevamo quel livello finché non uscivano le tre stelle no ma lui vuole anche di più visto com'è com'è bello quando guido io sì almeno andiamo avanti e non abbiamo sbattuto a nessuna parte e non abbiamo ahhh oddio qua è la cosa di rubare la roba agli altri il carico delle cose sì 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 devi rubare le cose per rufferrare lo zaino guarda guarda prendi io prendo lo zaino ecco faccio il formaggio e tu prendi la roba da me eh mi fanno la pizza in realtà la pizza vedi io devo prendere la roba da te e tu me la devi rubare ho capito ahahah anima dorata hai capito è bellissima sta cosa anima mia anima mia vabbè io in cambio vengo derubato vengo derubato da te sì hai capito dammi ahahah è qualcosa tipo ragazzi tipo non è un furto è uno scambio equivalente ecco ecco è solidale la pizza facendola strusciare per terra manca soltanto aspetta no le olive dove stanno le olive ah ecco dove stanno le olive ma era le olive no eeeh cos'è sta roba no la pummarola ok aspetta manca questa qua con le olive aspetta toghi geneticamente modificata per essere una normale ma che olive sono le olive giganti si ma ma l'hai notato ah beh ragazzi non deve scadere il tempo non scade il tempo buono ma so provarci le pizza a manetta allora si così ci abituiamo ma che pizza la pizza eh aha questo manca il piatto ok ah no lo porto solo qua vicino al servizio così ci ricordiamo che è pronto ah devo prenderti roba grazie ti ho arrivato guarda che è pariata sta cosa però mamma mia è buona si è mangiata vicino al forno che la sforna fate questo esperimento provate a mangiare la pizza dieci minuti dopo che è stata sfornata e un minuto dopo ah manca il pomodoro sto facendo però è la pizza in bianco con formaggio no con l'oliva con neve manca qualcosa la pizza di minchia ah ma no la avete senza no e signori la senza no non la buttare non la buttare dobbio farla vuole che stia facendo tantissimo non è il formaggio ed è già cucinata eh ah no quella no questa qui no questa no questa è da cucinare questa è da cucinare esatto questa qua davanti a me ecco ah ok allora mettici il formaggio eh la devo mettere eh dovevi prenderlo vieni no l'ho preso eccolo qui ora si mette in forno c'è anche questa che la possiamo mettere in forno così eh se mi permette il formaggio se mi permette di rubarti magari mica siamo una polietaria eh dobbiamo essere una polietaria che orrore sti cosi però non mi piacciono facciamo una normale per favore anzi altri due normali sono già qua con le normali guarda delta vediamo tre qua in servizio da servire no mettiamoli separatamente questi se non è un casino ma è delta ecco come si chiamano gli abitati catanzari canza canta 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 no ma questo si deve cucinare i catarrosi possiamo iniziare a consegnare qualcosa aspetta che faccio che metterai questa pizza in un piatto e ne farei ancora altri ok andiamo eh ma dato che abbiamo finito i piatti grigio sì infatti eh ma tagliamo un po' di ingredienti in più tipo i pomodori che di sicuro sponciano ok sì quelli servono sempre effettivamente ma anche la la pasta della pizza che ha delta eh hai capito possiamo iniziare un po' di pizze e pasta e pomodoro io farei solo pasta esatto brava pasta e pomodoro tanto quello serve sempre un po' come il prezzemolo ebbè effettivamente mezzo ovunque o l'aglio ragazzi mi sta venendo fame mannaccia non so non so perché l'ho mangiata ieri la pizza eh tutti l'hanno mangiata ieri ma pure il dittato tutti me lo stavano dicendo io no io non l'ho mangiata ieri maledetto sono data tutti che feci la la prodezza ieri di comprare due pizze in due pizzerie diverse contemporaneamente eh ho capito eroe eh ma veramente non c'ero mai riuscito e ieri ci riuscì ma mi stai girando intorno per prendermi è bellissimo per rubarti esatto ma proprio quattro quattro senza ma il fatto è che essendo un uomo di politica non sono particolarmente bravo a rubare comunque il pezzi però devo dire una cosa il formaggio possiamo mettere sul pomodoro perché devo credere che sarà generico ma secondo me non tutte non tutte secondo me ok allora lasciamola così non lo so vabbè rimaniamo così quando siamo pronti mettete eh guardate bello quel proceno handicappato radunò un giro mettiamola la pizza tipo quel proceno handicappato ho perso il uso delle gambe per collezionare tutto il formaggio del mondo per sfamare la tua famiglia di orfanelli ma poi venne derubato una sera mentre preparavamo pizza questa è cattiveria basta Grifusa non li mette tutte sulle pizze le patine no è formaggio non è patatine delta perché le chiami patatine so che assomigliano alle patatine ma non sono le patatine cioè dimmi tu perché li tagli così allora ragazzi iniziamo il servizio dai che adesso ne abbiamo sì sì basta si inizia a avviare uno normale olive olive in basso normale e adesso piace adesso servono i piatti però io li lavo e voi preparate mettete qua vicino al servizio dove stanno i piatti per lavare ragazzi abbiamo le pizze pronte lì al servizio così i piatti vengono subito pronti sì iniziate a prenderli ragazzi e poi inforniamo no sono già pronti questi caldi andate a prendere i piatti mettete quei piatti uno prossimo vai ho lavato gli altri i piatti i piatti Grifusa qua prendete i piatti prendi i piatti no no cioè prendete il cibo o i piatti e prendete i piatti i cibosi e servitelo prendilo no che è quella normale devo uscire quella normale chi ha preso quello con le olive sbagliate ragazzi io perché era giusto mi ha fatto rosso no 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 ha fatto pirimimi delta guarda che c'è pure il cac di i punteggio che va a fuoco vuol dire che lo stiamo attaccando infatti vuol dire che non abbiamo sbagliato niente ok manca il codo delle olive uno mettiamo a fornare questa prendiamo un attacco delle olive oh ragazzi abbiamo troppe pizze qui oh ragazzi manca uno delle olive poi consegniamo queste qui va bene possiamo consegnare le altre intanto eccola qua no perché abbiamo tempo quella con le olive è la priorità ecco qua poi abbiamo questa e ora manca un attacco le olive ti metto il piatto qua prendete i piatti sporchi qualcuno mettiamo che no questa era già pronta no non l'ho preso prendila vai lì butta in forno mi serve un piatto mi serve un piatto eh ce l'hai lì no non ce l'ho lì adesso si adesso si ma l'angelo del du lard del senegal ti mi fai laggare un casino mo devo mettere questo mi serve un altro piatto eh appena ecco qui 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 è pronto qui grigus grigus qui aspetta che arriva e prendilo ambulando ma tu quelle che ci sono già là fuori niente sto aspettando che arrivi devo fare qualcosa con le olive uno è nato con le olive oh queste olive c'hanno rotta il cappio però no dobbiamo fare un'altra pizza si quello con le olive cioè è divertente che quello con le olive è quello che ha rotta e scattola di più eh si perché è più più complicato mi serve un coso di pizza prendetela e tagliatela prendila e taglia qui 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 grigus metti tutte e tre uno due tre ma che il formaggio che lo prendi da da coso mi sono preso da solo la roba prendi prendi il formaggio mi fai così no mi sono preso la cosa da sola non mi chiedete perché ok perfetto qualcuno ha messo in forno una fagnotta di pizza senza condimento no tipo la palla praticamente ragazzi i piatti da lavare i piatti da lavare ma son due già pronti da servire no manca quello di olive prima avete rubato la pizza che c'era qua poi c'è questo e poi c'è quello ecco fatto ora vedi non toccate quella pizza in bocca ok vabbè quella pizza cosa volevo metterci niente c'è la pommarola ragazzi olive 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 tagliate non derubarti ah rubami dai devi rubare un procione sulla sedia a rotelle puoi farcela sei bello veloce non è non è mi fai lavare i piatti volevo acchiappare la cosa e non è venuta bene ah ecco qua un altro manca olive un altro coso di olive ragazzi toppe cose basta guarda che porta cacarella le olive ragazzi no ma la pizza con le olive c'era sarebbe la greca madonna ma che cavolo è che mangia la greca che problemi hanno che problemi ha bellissimo l'oliva toglie tutto il gusto alla pizza ragazzi iniziate a prendere a fare più pizze possibile con le patate con il formaggio intanto questo l'averso no 1790 punti abbiamo passato il colo 1696 è la rivoluta nelle patate giusto corretto corretto vedi come siamo stati veloci schietti schietti vabbè ma perché devo mettere perfino io mamma rogarmala comunque volevo dire una cosa a ignoto Dictator giocava da solo in single player come si chiama Payday Payday 2 mamma mia ma come fai la IA è peggio di quella di World War Z bestemmia ha detto che faccia tutto lui si devi far tutto perché tipo tu devi portare i borsoni di soldi tu puoi portarne uno alla volta vai lì premi quel livello si aspetta aspetta tu sai che devi quando ti rubi le robe devi riempire il borsone ognuno può portare un borsone alla volta si tu lo fai da solo perché gli altri non fanno un cazzo e tu devi prenderlo vai al camion poi torni indietro alla banca però nel frattempo la polizia te lo può rubare perché te lo portano via no infatti ha detto Dictato che ha smesso di giocare o giochi in squadra o niente eh infatti però io ho scoperto il trucco che se tu prendi il borsone con i soldi e lo lanci addosso ai compagni gli compare sulla schiena e lo portano loro nooo però devi farlo tu questo lo dobbiamo dire la Dictato lo scoprirà vai l'oggetto lo lascia che puoi lanciarlo quando hai il borsone dei soldi no? quando lo lanci nel furgone per scappare nooo poi la c'era verso agli altri e se lo prendono loro figo ci sta poi vai al camion e al camion glielo prendi tu e le butti nel camion tu nooo la vende ma questi li sappiamo fare dai di servere farine o no si portali no ne c'è pure ne ce ne manca uno ok io sono ai mixer ah ok mi lanciate no hai sbagliato coso io ti devo lanciare questo e me lo vengo a prendere io no 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 io lo lancio e vedi vedi come funziona ah ok ok non veni a prendere ah c'ho sbagliato eh ma dai tu me li hai lanciato vicino alla porta e tu che sei andato davanti la cosa vedi come arrivano belli belli si sta rovinando quel coso se non metti la roba dentro ho capito allora ci vuole basta Grievous aspetta un po' basta un po' no ho sbagliato perchè mi mandi la roba sbagliata perchè ah cazzo è entrato lì dentro ok errore mio no io non ho fatto niente lei si si mi ha mandato la roba sbagliata come è sbagliata è corretto dove è il frullato di carne che io ma dovete mandarmi la farina senza farina e Grievous non me la manda ecco anzi la farina è la base di questo livello no allora no no ricominciamo ve ne siete accorti no Grievous no Grievous non me la mandate niente ma ne ho solo uno Grievous devi mandare tanta farina a me eh ma aspetta specifichiamo guarda no no è chiaro me lo mandi a me io lo prendo lo lancio a ignoto ignoto rimane là esatto io me la tengo lì ho capito ho capito no vedi che devi vedere i colori giallo giallo vedi tu me li dai con la stanza là dove non c'è nessuno come fai eh no quello è dopo vai lancio uno vedi devo prendere al volo piano non troppo basta basta non troppo ora tu rimani là e mi passi la carota mi passi la carota Grievous ti picchio mi passi tu non mi lancia tu lancia questo me lo tengo io qua eh no è un attimo no io sono carota e basta mo lasciami un attimo fare a me ok mo un attimo rimani là Grievous anzi Grievous vai del viola eh lo so lo stavo facendo mo Grievous deve andare sul viola ecco bravo non è pronto no no è andato è andato ok perfetto mo Grievous deve rimanere lì per il momento ti avevo lanciato la roba del gambero di qua e devi mettergli anche la farina e la farina perfetto Grievous è finita adesso Grievous deve rimanere nel viola e perde e questo è pronto glielo mando al Grievous aspetta metterlo lì e vai Grievous consegna perfetto così io intanto ti mando il sale e il cosa la farina sale io non lo voglio il sale eh ho sbagliato vado a diamo ok non ha letto il cartello ho vietato i procioni no che è successo eh hai sbagliato tu vabbè buttalo qui e li torno indietro colpa mia rimani giù per favore Grievous devi consegnare roba ah i piatti me li devi portare a me me li devi portare a me mi serve del materiale tenta eh Grievous intanto mi dai piatti tu e mi lancia la farina mi serve del materiale farina farina tanta farina no no la farina farina c'è no mi serve molto legnano piano piano Grievous pasta ok che cosa ti serve carote e gamberi perché me l'hai buttato l'adio sta attendo ho messo due farine non lanciare delta per dio se tu lanci fare riparti guarda cosa mi hai fatto hai lanciato tre farine nel coso ma tu non lo devi metterti ma se tu lo metti lì la roba è naturale che ma io l'ho appoggiata perché stavo bruciando vedi però è colpa tua cazzo cazzo carota carota carotena eh già sta girando ma se ne finisce farina carota pronta no hai sbagliato posto madonna sti cazzo di portale e dovete imparare e dovete imparare i colori ragazzi comunque detto a me che non devo basta basta ragazzi ripartiamo stiamo bruciando troppa roba no guarda quanti punti hai fatto 282 282 altri persi perché sei qui Grievous Grievous i fuochi no ma perché te non sei andato dai fuochi perché è andata dai prendi ai piatti dove vi aspetta che stupido vabbè riparto sei maldestro oltre che stupido queste mie o te e la tua famiglia allora ragazzi andiamo con ordine diciamo Grievous non può essere di là perché non sa fare le due parti cosa stai dicendo è colpa dei piatti io ho fatto tutto hai soffreso fuoco tutto una sola volta e poi è bastato allora perché andiamo con ordine Grievous passami per favore la roba due farine e due una bistecca è bravo è una bistecca è una cosa tu mettiti lì davanti ignoto così ecco perché mo ti lancia la roba così ecco qui piano una cosa alla volta ma vai nel viola rimani nel viola adesso Grievous in realtà lanciami una farina sì lancio anche una carota e una farina anzi due farine allora madonna Grievous te le porto io in cottura le cose per favore così mi riprendo anche le ciotoline sì ha ragione tu devi rimanere giù devi rimanere sennò io mi trovo senza ciotole poi ecco infatti devi buttare qualcosa adesso ignoto hai fatto una ma no non l'ha fatto l'ho sbagliato e vedi carota è che cazzo di atomico ok stavi andando bene ora riscendi aspetta che grazie lanciami una un gambero o una carota ora prendi subito quella cosa piano ecco è molto una carota sì un attimo che così trova il farino ok ho metto grievous un attimo carotonsky grazie che va qua vai là ok guarda che vado a portare al grievous mettilo versolo subito ed entra e ritorno bravo sì sì questo è il mio piano ok ora cosa serviva che poi ho dimenticato già le cose ok carota via bistecca di grievous dei ritorno che consegni quella cosa il viola no sul viola devi andare poi ritorna sul viola lo so che il tuo colore odioso devi prendere quell'altro bravo e adesso rimani il cibo vado a prendere i piatti mentre tu tagli intanto così grievous non perde tempo e lancia materiali ok ce l'hai tu il piatti giusto delta sì ora ritorno al libro ti sto lanciando la roba a cazzo ecco qui i piatti te li porto io adesso ok no grievous non venire qua ti prego ti sorveglio te li porto io le robe che ti servono posso lanciarmi una farina ecco guarda ho capito più io tutto il percorso che devo fare che voi che vi state sauretando e che sto facendo lanciami una farina grazie ok che ignorano buono buono c'è un carota e farina pronto qua da portare a cucinare sì inizia a portare intanto io sto lavando facendo ora mi servono materiali grievous ritorna attimo giù che intanto io qua sto mettendo se non ho imparato tutto carota e devi consegnare la carota grievous adesso vai e consegna la carota perfetto pronto a ricevere il gambero e non so pure questo qua e anche la farina grievous ci penso io vai giù no mi devi aiutare a consegnare la roba mi devi consegnare la roba la roba la roba è la roba la carota è tutto grazie questo già ce l'avevo allora ti lancio questo carota perfetto e però ecco qui no levati ma l'hai lanciato sì l'hai lanciato a mano uno ha servito anche una farina allora sì due farine mi servono grievous mi servono farine 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 ma la farina di olio verge tipo 00 troppo 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 basta e danno metto i piatti entra passa perfetto ok il carotene qua anche una delle carote sta andando eh ma hai detto va caro eh sì vengo a prendermi un gambero io perdiamo uno eh vabbè non c'è tutto ah ma è uscito sto schifo ah ho sbagliato posto vabbè ovviamente tanto ormai abbiamo perso però abbiamo 696 dai eh forse non bisogna fare 700 eh sì vabbè ci è andata di tempo eh quello che abbiamo perso no vabbè no neanche eh ne abbiamo perso uno ne abbiamo perso uno non ce la facevamo ma non bastava tanto no ci serviva però forse in serie lo prendevamo cioè dava il bonus della serie sì della serie questo giusto fare così eh ci siamo un po' incassinati alla fine però all'inizio eravamo partiti bene bene ci siamo confusi con i colori però vabbè no non è facile abbiamo fatto due punti vanno bene vanno bene adesso guido io e comando io c'è un'onore oh l'odio questo indovina che cosa si sposta te lo ricordi Grievous questo io me lo ricordo fin troppo bene questo livello cosa succede? si sposta qualcosa di sopra la sorpresa delta vai vai eh ma non so perché non so come funziona no la sorpresa il fattore sorpresa guarda guarda il luce mille e cento l'ultimo bellissimo dov'è almeno duemila cos'è sta cosa? oh no ho capito cosa si sposta i tizi in canoa si bravo l'uovo va tagliato si no l'uovo si vede al sacco di che cazzo tagli il uovo? piano consegna la cosa giusta ok la farina non sbaglio mai serve il coso di olive le olive 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 disgrazato guarda sono milano no aspetta attenzione che dobbiamo abbiamo che dobbiamo darla Grievous che deve cucinare giusto? si bravo e lo devi mettere lì sotto ecco questo l'avete fatto con due farine disgraziati chi è che l'ha fatto? no no quella che ho messo io ne aveva una sola idem grazie ma guarda che devi giocarlo tu lo devi fare tu perché lì avete messo solo il mirtillo? eh? eh? noo che cazzo è successo? è baggato che cosa è successo? è baggato no no il mirtillo dentro la mistura miridia 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 oh ci sono il nuovo con la canoa e mettere la farina mettiamo la farina ma se è baggato io l'avevo visto che l'avevamo fatto bene ma vedi che l'avevamo fatto giusto? anche quello che ho messo io era giusto io ci ho messo dove farlo mi serve un uovo mi serve un uovo comunque in tutto ciò eh però se mi dai il cioccolato io non ho nulla non c'è un rettile non puoi farle uova fai tu un uovo piatto ma le varie chi le comanda? da soli da soli ah tu Grievous prendi qui che devi lavare i piatti no mi serve ma è mancante manco l'ingrediente vedete di riempirlo ah l'uovo sta qua vedi vedi manca l'uovo qui qui manca uno col cioccolato manca allora pepepepepe allora ci vuole la cosa devi friggere ok via le cose che richiedono il canone non canone non satevi ti apro madonna è un po' confusionario adesso aspetta ecco qui no eeeh vabbè eeeh e io vedi cucinare e cucinare e lavare i piatti c'era un piatto pronto primo petto è finito avete cotto su cosa qui piatti i piatti i piatti li lavavano no eeeh anzi per i libri di uojo i piatti sono qua mettetelo nel fornello anche sto qua bravo dai piatti grimo si piatti lava i piatti sennò se rimaneva senza piatti sono cazzi e e e e e e e e così lì per favore dobbiamo un uovo che la vengono bravo bravo al pelo bravo no cacchio mi manca un cosa di olive avesse instigati per madonna santa marone ha fatto una cazza di madonna abbiamo fatto un disastro dobbiamo rifare con sassi farina grazie no siamo partiti mali uova grazie ci esercitiamo un atto ragazzi ma secondo me ce ne vanno due di là non uno eeeh no no abbiamo sbagliato non troppi piatti no abbiamo sbagliato noi il ritmo sai perché che cosa è successo quell'errore prima che non ho capito che cazzo è successo perché avevamo fatto tre ingredienti perfetti non so perché poi si è sminchiato tutto vedi mo per esempio noi non ci troviamo perché abbiamo vedi queste cose qua devono rimanere qui devono rimanere ogni volta che si consegna si deve subito portare i piatti via mo mi dici perché i mertili stanno lì eeeh non possiamo fare niente noi ma di là c'è troppa roba da fare lui è solo uno secondo me no 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 allora no lui ci deve dare eeeh i mertili così tagliamo sempre e eeeh la città non può darci i mertili guardare le cotture lanciarci la roba a lavare i piatti deve fare troppa roba ma si guarda ancora per un po di punti un po più da metà dei punti si fa si fa delta rifafala eh si dobbiamo fare ah giusto ho premuto il tasto sbagliato ho premuto spazio tutto il tasto da autodistruzione questo canale si autodistruggerà ah che bello intanto lo rifaccia per la prossima volta qui del 38 al prossimo video passo e chiudo bella bella